Musica Grandissime soddisfazioni, sono veramente contenta e siamo una squadra veramente pazza. Ora vediamo perché comunque se passiamo agli ottavi rincontriamo di nuovo loro. Quindi vediamo un po' di... innanzitutto pensiamo alla CEV, anzi prima dobbiamo pensare al campionato ancora prima della CEV. Vabbè, vedremo, vedremo, sono contentissima, non ho parole. Siete cresciute molto, questo senso è fuori discussione. Sì, ci siamo ritrovate, ci siamo ritrovate perché era giusto così. Sì, abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto un sacco di infortuni e la testa ha seguito. Però sono contentissima, brave tutte. Rispetto all'inizio del campionato mi sembra che possiate veramente puntare in alto adesso. Speriamo, è troppo presto, abbiamo troppe partite, c'è tantissimo ancora. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.